l'aria è un po... buongiorno ciao Tofi ciao allora io ve l'ho detto aspetta la metto di qua quello che vi ho detto, vi ho detto prima e dopo è inutile dare colpe allo... allo Stato perché non se le prenderà mai è inutile parlare di polemiche, di discussioni, di cose perché non se le prenderanno mai se vogliono si vanno a vedere i tabulati, se vogliono ci mettiamo davanti a una telecamera così evitiamo poi le fughe, le parole famose, le spiegazioni, le parole di fuga vanno a vedere i tabulati, vanno a vedere le cose, raccontiamo le persone, ci sediamo nomi, cognomi, indirizzi, numeri di telefono, circostanze e cose e vediamo se è come dico io o non è come dico io anzi ma loro non vogliono quindi non gliene fotte un cazzo capito? e allora la gente ancora fa succhie, fa lecca lecca, ancora fatti lecca lecca, ancora succhiate e quindi anche la gente dovrà pagare tutte queste stronzate allora siamo qua con Toffi, ora scendiamo Toffi, andiamo a fare colazione qua io ho dato un paio di secchi, però come potete notare chi ha fatto, chi ha pensato a fare questa questa pendenza qua, i massetti e le cose non ha fatto, questa l'ho data ieri, non ha fatto la pendenza giusta vedete, non ha fatto la pendenza giusta, io un paio di secchi li ho dato ditemi se questo è possibile allora pensiamo una cosa, qua lasciamo stare da questo lato lasciamo stare ma quello che ci vorrebbe qua a parte riempire e mettere un po' di spessore un po' di spessore in questo in questa cosa, quello che ci vorrebbe qua sarebbe una bella tettoia un paio di un po' di paratura qua fare una rete qua, qualcosa di rete così e mettere qua una tettoia una cosa che scende così a tettoia che mi scende così un pochettino, un verandino, fare un bel verandino una bella veranda qua con una rete logicamente sistemare questa poi mettere un rubinetto sistemare la pendenza poi dare lo strato che non hanno dato mettere qua un bel rubinetto che sotto c'è qua sotto che lo apri che qua sotto c'è il il tubo e poi magari qua qua ricavare ricavare qua una stanza ricavare una bella stanzetta che qua non dà fastidio a nessuno come visuale fatta smontabile quella in alluminio un prefabbricato fare un prefabbricato in questo punto qua chiudere con la rete sistemare e tutte queste cose qua qua questo si deve fare non si è potuto fare perché hanno cercato sempre di boigottare tutti da parenti a stato a tutte queste cose qua hanno cercato sempre di boigottare di non farmi fare mai un cazzo e di distruggermi le mie cose per quale motivo ma vatteli a pesca in fondo al mare mamma mia com'hai a fare c'è a tutti da super impare impare quello che vi manda tutti a a fanculo andiamo toffi grazie a tutti Grazie a tutti.